Devo ringraziare a tutti dei posti che stanno aprendo adesso, è un onore per me in rappresentanza anche se non è lo stesso, che mio fratello era unico in rappresentanza di lui, sto io e speriamo che questo Covid se ne va presto così possono lavorare tranquilli tutti. Io abito qua e so che la gente Napoli lo vuole molto bene a mio fratello e ho parole solo di ringraziamento al popolo napoletano. Grazie.